Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione dal territorio. Un'esplosione si è verificata questa mattina in provincia di Venezia a Vigo Novo in un capannone addibito alla raccolta di materiale ferroso. Secondo i vigili del fuoco non si sono registrati problemi alle persone ma i danni sono ingenti alla struttura. Secondo una prima ricostruzione sembra che un operatore mentre stava utilizzando una gru a ragno avrebbe raccolto alcuni pesanti pezzi di metallo da spostare. Tra questi anche una bombola di acetilene che per la pressione sarebbe esplosa. Lo scoppio ha fatto decollare questa bombola addirittura fuori dal capannone in uno spazio attiguo. L'operaio che stava guidando la gru fortunatamente è rimasto illeso perché è rimasto protetto dalla cabina nella quale si trovava. La polizia della questura di Venezia in una seconda tranche dell'operazione Masch che aveva portato all'arresto di 16 persone ne ha individuato altre 6 tutte accusate di rapine e assalti. Sentiamo. La questura di Venezia ha concluso l'operazione Masch che aveva portato all'arresto di 16 persone con l'accusa di rapine. Nella seconda fase delle indagini sono stati bloccati altri 6 uomini ritenuti appartenenti allo stesso gruppo criminale e ai quali vengono attribuiti i vari colpi realizzati nel Trevigiano. I 5 sono Michele Gelain, Marco Carraro, Costante Carraro, Delfino Fincato, Moreno Scanferla e Giuseppe Martini. Il gruppo era specializzato in vari reati in particolare rapine, furti e ricettazione tutti compiuti utilizzando anche armi da guerra. In particolare durante gli assalti venivano utilizzati kalashnikov, pistole e materiale esplodente. Tra gli obiettivi anche alcuni supermercati. Alcuni degli arrestati sono già noti perché in passato erano affiliati alla Mala del Brenta. Le indagini compiute dalla Questura di Venezia si sono avvalse della collaborazione delle squadre mobili di Treviso e Padova. Tragedia della strada in provincia di Verona. Un 63enne veronese Leonardo Spagnolo è morto questa notte lungo la Statale 12 tra ospedaletto di Pescantina e Domegliara nella provincia scaligera. dopo essere stato travolto mentre era in bicicletta da un'auto il cui conducente è inizialmente fuggito senza prestare soccorso. Per il ciclista non c'è stato nulla da fare. I traumi riportati nell'impatto sono stati fatali. Per ora vi è stata la caccia per ora vi è stata la caccia al pirata della strada ma questa mattina l'investitore si è presentato spontaneamente in caserma. Un nuovo episodio di aggressione a Mestre in Via Leardi, un cinese di 26 anni è stato aggredito da due giovani che lo hanno preso per la gola. Volevano l'iPhone ma pretendevano anche che il 26enne andasse a casa a prendere dei soldi perché in tasca non aveva contanti. Il giovane è riuscito a divincolarsi e mettere in fuga i rapinatori. In questi giorni di fine anno sono stati tracciati nelle varie città del Veneto i bilanci da parte delle forze dell'ordine e da parte delle prefetture dai quali è emerso un calo dei reati ma è emerso anche un aumento dei furti furti nelle abitazioni. Dopo le dichiarazioni di alcuni prefetti il presidente Zaia va all'attacco e traccia un quadro ben differente. Il presidente della Regione Veneto attacca quei prefetti veneti che tracciando i bilanci di fine anno in merito alla sicurezza affermano che i dati sono in calo a parte un aumento dei furti nelle abitazioni. Tra l'altro, mentre Zaia si appella al governo per chiedere la presenza dell'esercito sulle strade, si scopre che il Viminale avrebbe deciso di togliere quei militari oggi impegnati nell'operazione strade sicure come a Padova. Afferma Zaia, ci sarebbe da ridere se la cosa non rivestisse invece profili di forte gravità. In un giorno, con qualche dichiarazione, si tenta di cancellare tutti gli allarmi e i veri e propri bollettini di guerra che leggiamo quotidianamente sui giornali, riprende il presidente Veneto, al punto da far gridare al questore di Venezia un appello ai legislatori e al governo. Negli uffici di polizia e carabinieri si presentano sempre le stesse facce patibolari, sintomo di scarcerazioni facili o di leggi che impediscono alle forze dell'ordine di arrestare i colpevoli e ai magistrati di dare alla società certezza della pena erogata. Per il governatore Veneto è indispensabile una legislazione straordinaria per consentire ai bravi professionisti dell'ordine pubblico di arrestare i criminali e ai magistrati di lasciarli in galera. A Padova probabilmente un malore fatale ha ucciso un uomo di 51 anni si tratta di Paolo Cortinovis l'uomo è stato trovato a terra lungo via Giordano Bruno in città a vederlo e dare l'allarme è stato un passante sul posto sono giunti gli uomini del SUEM ma purtroppo non c'è stato nulla da fare sul posto anche le forze dell'ordine che hanno constatato che sul corpo non vi fossero segni di violenza per questo la morte sarebbe da attribuire al malore. E un'altra morte improvvisa a Padova riguarda un giovane ganese che viveva nella casa Don Gallo l'istituto che si trova vicino alla fiera di Padova. Il giovane che era in città con un permesso per motivi umanitari è stato trovato senza vita a letto anche in questo caso sembra si tratti di un malore fatale. Cambiamo completamente argomento a Venezia si sa è difficile orientarsi la segnaletica è presente ma prossimamente verrà completamente rivista. Venezia si prepara ad offrire ai suoi turisti una nuova segnaletica nella città lagunare arrivano ogni anno 20 milioni di turisti e presto troveranno una mappatura con indicazioni chiare e ben disposte. È partito un progetto di mappatura per dare indicazioni a quanti vogliono muoversi in città dopo un primo esame che ha portato i tecnici del comune a scoprire migliaia di cartelli che creavano un disordine informativo e anche il contraddittorio facendo sì che il riordino divenisse necessario. Si tratta di un primo passo per favorire la mobilità urbana e la ricerca dei luoghi da visitare e vedere utile anche per ridistribuire i flussi turistici che sempre più congestionano la città indirizzando i visitatori verso luoghi di visita meno noti al turismo di massa e verso le zone meno frequentate ma non meno belle. Il passo successivo sarà la pubblicazione di una mappa digitale accessibile online che riporterà l'ubicazione della segnaletica del territorio comunale. Grazie a questa prima fase di ricognizione sarà quindi possibile nei prossimi mesi effettuare la rimozione dei cartelli non più funzionali o non autorizzati in previsione di una nuova riqualificazione appropriata e multilingue. Una abitazione di Montebelluna in provincia di Treviso è stata interessata nella notte da un incendio che ha danneggiato una porzione della casa. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha permesso di bloccare il rogo. I danni hanno comunque reso temporaneamente inagibile alcune stanze dell'edificio. Le cause dell'incendio sono in fase di ricostruzione. Attesa non solo per la notte di Capodanno ma anche per il primo weekend del nuovo anno che darà il via ai saldi. In anticipo rispetto al consueto 5 gennaio sabato partiranno ufficialmente i saldi in tutto il Veneto. Il primo weekend di gennaio si aprirà dunque all'insegna sperano i commercianti della corsa all'acquisto. Probabilmente c'è anche chi ha atteso per fare i regali di Natale rimandando alcune compere al momento dello sconto non così distante dal 25 dicembre. Un'occasione per comprare di più risparmiando e prendendo qualcosa di più interessante. Regali a parte l'arrivo dei saldi anticipato darà l'opportunità a molti di fare shopping personale comprando quelle cose che fino ad ora erano state oggetto di rinuncia. L'anticipo rispetto al 5 gennaio previsto è stato deciso dalla Giunta regionale dopo aver acquisito il parere favorevole delle organizzazioni di categoria del commercio e dei consumatori. A chiedere l'anticipo erano state alcune organizzazioni delle imprese del commercio per beneficiare del primo weekend di gennaio. Il Veneto resta nella morsa del gelo con una percezione del freddo ancora più alta provocata dal forte vento da nord-est. Tra le minime più significative è quella dell'altopiano di Asiago che tocca ancora meno 15 gradi e Cortina che chiude l'anno con un meno 10. Secondo l'ARPAV l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto le minime sono di meno 3 gradi rispetto alla media. Alcune minime registrate a Feltre segnano meno 11 Falcade meno 9 Arab meno 7 nelle città di Pianura troviamo meno 7 a Belluno meno 6 a Verona meno 5 a Vicenza meno 2 a Treviso e Padova meno 1 a Rovigo e meno 1 anche a Venezia Secondo le previsioni il freddo rimarrà tale almeno fino all'inizio del 2015 con tempo soleggiato e qualche velatura di nubi il sabato con minime che saranno finalmente in aumento. E prima di salutarci mentre ci prepariamo all'ultima notte dell'anno vogliamo farvi ascoltare gli auguri indirizzati a tutti voi da parte della Presidente della Regione Veneto. Ci lasciamo alle spalle un 2014 che vorremmo dimenticare affrontiamo il nuovo 2015 nella speranza che si possa vedere in fronte al tunnel non una semplice luce ma un bel raggio di sole quel raggio di sole che porta il lavoro che porta i risposti ai 200.000 disoccupati che abbiamo in Veneto porti serenità a tutta la nostra comunità. Quindi il mio augurio a tutti i Veneti è un augurio assolutamente di serenità di uno sfavillante 2015 in maniera tale che il 2015 possa farci uscire definitivamente dalla crisi e dar risposta ai tanti Veneti che cercano lavoro. Buon anno a tutti buon 2015. E anche da parte nostra l'augurio di trascorrere una serena notte di San Silvestro ricordandovi che le nostre trasmissioni resteranno in diretta sul canale 73 fino alle prime ore della mattina per trascorrere la notte assieme a voi. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima edizione.